Oggi, mi dispiace, ufficialmente sarebbe l'ultimo giorno della conferenza sui cambiamenti climatici qua a Parigi e purtroppo ragazzi è andata molto male, sono tutti irritati, sono lentissimi questi negoziatori, forse domani avremo un accordo vero e proprio, però sono tanti nodi ancora da sbrigare, diciamo così. E niente, noi vi salutiamo e speriamo domani darvi buone notizie, perché domani è anche una giornata molto molto calda qua a Parigi, ci saranno tantissime manifestazioni, la società civile organizzata, mobilitata andrà per le strade a rivendicare un accordo climatico davvero audace. La nostra scuola è stata riuscita, che già ha avuto il nostro reddine, ci sono principali problemi che devono essere coperti da questo accordo, che sono completamente ignorati da i governi, e ancora non è ancora un accordo di ciò che garantitano la nostra fondamentale, come la perdita, finanza e differentiazione. Quindi, noi stiamo qui per riuscire, per assicurare che il mondo sappiamo che questo accordo non è successo che le governi presentano, ma questo accordo è effettuato, e non mi fai con noi, colectivamente. E questo è quello che siamo qui. Ok. How many are you? Um, I... ...don't know. I'd say several hundreds. Ok. Many hundreds.